Uccide la moglie strangolandola. Chi lo difende chiede l'applicazione delle attenuanti generiche in quanto l'uomo sarebbe stato mosso dalla gelosia. Secondo la Corte Suprema di Cassazione le attenuanti in questo caso non si possono applicare. Perché? Perché la gelosia di per sé non è idonea a compromettere in tutto o in parte la capacità di intendere o di volere del soggetto agente, a meno che non sia derivante da un vero e proprio squilibrio psichico che comprometta la capacità di determinazione del soggetto agente. In parole povere l'uomo uccide la moglie per gelosia ma sa benissimo quello che sta facendo. Buona giornata a tutti e stop alla violenza.